Amici di Onda Libera TV, siamo nella sede Ampi Le Dantinori di Fano. Si è svolta ieri la manifestazione Alba Rossa in occasione del ricordo della liberazione di Fano, che è avvenuta il 27 di agosto. Il 26 però l'Ampi ha organizzato un bellissimo evento che si è tenuto in piazza 20 settembre con il concerto di Frida Neri e dei nudi sotto la pioggia e si è concluso poi con un corteo, una fiaccolata per le vie cittadine e direi con un notevole successo di pubblico. Chiediamo a Paolo Pagnoni, presidente dell'Ampi di Fano, se è soddisfatto del risultato raggiunto. Non è una domanda che mi lascia molto contento perché devo dire che è una manifestazione che è giunta alla terza edizione ma che ogni anno riscuota sempre più successo. Devo dire che l'Ampi di Fano è un gruppo di persone che lavora molto attivamente e ci sono dei giovani che sono tra l'altro anche qui fianco a me che stanno dando tutto per far sì che l'Ampi e la sezione Le Dantinori, che è la staffetta partigiana alla quale abbiamo voluto dedicare la nostra sede, funzioni e funzioni al meglio. Manifestazioni culturali, presentazioni di libri, concerti, film sono continuamente presentati nella nostra sezione. E devo dire che i fanesi stanno finalmente sottolineando che l'Ampi c'è e fa la sua parte. E' proiettata verso il futuro. Esatto, sicuramente così. Ecco, infatti abbiamo qui due giovani che sono attivissimi all'interno dell'Ampi. Francesca, allora cosa mi puoi dire del successo di Alba Rossa? Siamo molto contenti anche quest'anno, eravamo un po' preoccupati per il tempo ma ieri è andato tutto molto bene. Abbiamo avuto una cena di sottoscrizione prima al Bello e la Bestia con più di 80 partecipanti e poi tutti in piazza per il bellissimo concerto. Abbiamo cantato e poi abbiamo fatto la nostra sfilata che facciamo tutti gli anni per la piazza che si conclude a mezzanotte perché poi si congiunge al 27 che è il vero giorno all'alba del 27 in cui Fano è stata eliborata, in cui i polacchi sono entrati nella nostra città. Bene, Francesco Boria, tu sei l'informatico dell'Ampi, no? Ho il profilo Facebook dell'Ampi che ha attualmente circa sui 4.000 aderenti tra amici ed è un'attività che è molto proficua per il semplice fatto che i giovani rispondono abbastanza bene e questo è positivo perché c'è la possibilità di trasmettere quello che è il testimone da quelli che erano poi i vecchi partigiani ad oggi, coloro che hanno ereditato questa cosa importante. Quindi lo spirito della resistenza continua tra i giovani e sta attecchendo tra i giovani, fortunatamente. Per quello che riguarda Fano sì, il fatto è che l'Ampi svolge un'attività molto importante che è quella della sensibilizzazione della popolazione. Se la popolazione è sensibile e comunque viene sensibilizzata ed è informata allora c'è anche la presa di coscienza da parte della popolazione quindi questo permette inevitabilmente che non si calpestino quella che è appunto la Costituzione non vengano calpestati i diritti, però è necessario un'attività di informazione. Attualmente a Fano l'Ampi lo sta facendo e noi speriamo di essere anche un esempio per tutte le altre sezioni Ampi provinciali, regionali e magari anche nazionali. Visti anche i risultati positivi? Visti anche i risultati che sono assolutamente positivi quindi qualsiasi iniziativa che facciamo sono molto partecipate non soltanto quella dell'Albarossa abbiamo fatto il 25 aprile abbiamo fatto recentemente alla fine di luglio un evento con Diego Fusaro che è stato partecipatissimo quindi l'Ampi c'è ed è un'ottima organizzazione perché è fatta soprattutto da persone che lo fanno perché ci credono non perché hanno nulla in cambio, non c'è corsa alle poltrone e quindi questa è una cosa che la rende particolarmente positiva e ci permette di poter svolgere un'attività di sensibilizzazione che permetta alla gente di prendere coscienza e poi di essere vigile nella Costituzione, nei diritti e via dicello. Bene, io vi ringrazio, complimenti per la buona riuscita di Albarossa Intanto continuo a ringraziare per tutti quelli che hanno attivamente contribuito alla riuscita di Albarossa e al contributo che si continuerà a dare per l'Ampi Fano ma voglio ricordare che la sezione di Fano ha presentato al Consiglio Comunale, verrà discussa a fine settembre la richiesta perché spazi pubblici che riguardano il Comune di Fano non vengano concessi ai fascisti, alle forze come a Forza Nuova e Alba Dorata e altre organizzazioni filonaziste che purtroppo sono ancora presenti nel nostro territorio. Grazie.